La senti anche tu? Cosa? C'è la tv accesa! Non riesci a vedere dentro? Ma che? Non sono i giovanni quelli? Dove? Stanno dormendo? C'è nessuno! Perché sei sempre in competizione con me, fratello? Tu sei sempre in competizione con me, fratello! Ma che cos'hanno che non parlo? Sono dei chingasati, bigotti del cavolo! Il padre è Dio, la madre è Maria, poi ci siamo, mio fratello è Dio. Corazzo, strozzetto, Dio! Chi è? Vai ad aprire il telefono di i vicini di Campania. Caro e? Come figlio non ho una perdita, mi spianca. S.M.M.R. Prego, M. Tocca a te. Ma perché era il quinto di Betone? Ma quando? Tre mesi fa. Ma perché Betone? Ma che te ne frega della musica che mettono? E Maria? Chi amerebbe di più? Di Gesù Cristo o suo fratello? Michael Jackson, Michael Jackson, Michael Jackson! C'era anche dell'altro. Cioè? Tu volevi uccidere papà? Ma come re successore? Come re successore? Il lutto mi indigorisce. Volevamo invitarvi a cena. A cena? A cena stasera. Fammi il loro ingresso in sala i due principiti, S.M.M. Ma la reale domanda è, chi è il fratello di Gesù Cristo? No, dicevo io infatti, noi vorremmo sapere che ne sarà dalla correnza stasera. Egli che c'è un pezzo in tv. Ne ricordo del tuo esempio, del tuo giusto operato, del tuo stato, eccetera, eccetera. Grazie a tutti. Grazie a tutti.